In subordinazione e distruzione di mezzi militari, propone... Porte marziale, non ho mai visto guidare meglio in tutta la carriera. Le voglio entrambe come autiste personali. Oggi sono molto scontento che il Sargente Bumba non rispetta i programmi. Ah, ma se... Magari vediamo anche una bella medaglia. Sargente Bumba, dove ti sei cacciato? Ma... Ai fiorbini, signore. Già spendi le prove di mimetismo. C'è un'emergenza. L'igienista del generale Saponetta sarà da noi a colazione. E non c'è neanche una goccia d'acqua. Signor... Oh, no! L'acqua di Rubinetto non va bene. Procuratemi dell'acqua di Sargente. Scappare! Scappare! Ritorno prima di colazione con dell'acqua di Sargente. E' stata una mossa veramente astuta, Sargente. Il generale Saponetta sarà qui a minuti e l'acqua non arriva. Con me!